Ecco, a pochi passi dalla casa di padre Tod, qui hanno abitato nel tempo personaggi molto famosi che hanno fatto un po' la studio del paese, ma diciamo della Sardegna. Sardegna, come Vicenzino Cabra, che è nato qui, sono venuti gli studiosi d'Italia e hanno identificato questa casa. E poi qui abbiamo gli altri personaggi, che probabilmente lo signor Torre è nato in questa zona. Monsignor Torre, questo è dei Gessa, i Busincu, i medici di Cagliari, questa è la casa dei Busincu, e più avanti l'avvocato Gessa, famosissimo del partito sardo del dopoguerra. Insomma, parecchi personaggi illustri, la storia della Sardegna. In fondo vediamo una casa che si leva sopra tutte le altre. Sì, sì, delle signorine Pulis si chiamavano, era una casa bellissima. Adesso l'ha acquistata il comune, ne hanno fatto un museo. Museo del... Probabilmente parla del museo del Capinomereo. Ecco, ecco, quindi un concentrato di storia. Un concentrato di storia, questa è la zona più importante, probabilmente. In che zona siamo di Tonara qua? Si chiama su Montigu come zona di Arasulè. 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 Perfetto. Ecco, stiamo andando verso la casa di Peppino Mereo. E adesso non esiste più. Non esiste più. Ecco, sarebbe in questo spazio qua. Sì, questo spazio era la casa. Non è rimasto niente. Le poste, le poste. Questa era la casa di Peppino Mereo. Io ho preso da Puglielo. Io ho preso da Puglielo. Io ho preso da Puglielo. Quando, verso quando lui è morto, verso che? No. All'al fine dell'800. Peppino Mereo, il primo del novecento, il 1901. Ecco, proprio non è rimasto niente. Non è rimasto niente. La casa è crollata un ventino di anni fa. E quindi fine degli anni novanta.